buonasera e benvenuti a tutti a questo 26esimo appuntamento con i macro webinar prima di iniziare vi chiedo se potete darci un feedback se vedete se sentite bene quindi magari scrivetecelo nei commenti e mi presenti sono denis arcangeli responsabile dell'ufficio marketing di macro e oggi per questo 26esimo appuntamento parleremo di argomenti davvero interessanti quali le credenze limitanti leggi quanti che la meccanica quantistica il quantum energetico il focus universale e lo faremo con un ospite davvero speciale vincenzo panelli prima di iniziare vi illustro come organizzata la serata dopo una breve presentazione lascerò la parola vincenzo per il suo intervento che durerà circa 40 45 minuti alla fine del webinar ci sarà spazio per le vostre domande che vi invito già a scrivere nei commenti sia su facebook su youtube e anche linkedin sì infatti anche da questa sera siamo in diretta anche su linkedin vi invito inoltre a rimanere collegati fino alla fine del webinar in quanto ci sarà una sorpresa speciale per tutti voi a questo punto e vediamo un po se c'è qualcuno ci ha dato un feedback sì sento vedo tutto bene perfetto allora direi di procedere invitando entrare in diretta a vincenzo ecco qua aggiungiamolo ciao vincenzo ciao ciao a tutti buonasera come stai tutto bene 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 dai bene 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 perfetto sono molto contento di averti come nostro ospite per questa sera informo che abbiamo oltre 800 persone iscritte a questo webinar per cui tantissimo c'è grande interesse per questo argomento per cui a questo punto ti presenterei insomma perché magari per chi ancora non ti conosce presento vincenzo magari leggendo la biografia che direttamente dalla quarta dei suoi libri allora vincenzo è autore internazionale di numerosi libri sul potere e sul potenziale umano tra i quali spicca il potere dell'energia universale uno dei primi testi che sin dal 1998 ha mostrato le connessioni tra la meccanica quantistica la programmazione inconscia e la mente universale è appassionato e studioso di meccanica quantistica di antiche pratiche sciamaniche e orientali shiatsu e reiki dal 1997 ricerca attivamente nell'ambito del progetto genesi un programma per lo sviluppo dei poteri psichisi come esperto in neurotecniche per il cambiamento rapido delle credenze profonde e dei condizionamenti inconsci con il gruppo macro già pubblicato diversi libri tra quali la mente quantica che magari vi posso mostrare qua adesso sia che è disponibile sia in versione libro che in versione da poche settimane anche in audiolibro quindi una grossa novità poi il potere della programmazione quantica migliora le tue relazioni con l'anagramma e la pnl i poteri segreti della comunicazione empatica e anche il protagonista dei video corsi online la mente quantica è il potere della programmazione quantica a questo punto io lascerei la parola a vincenzo però prima di lasciare magari vorrei se posso vincenzo introdurti con una domanda che cos'è la mente quantica e come può cambiare la nostra realtà questa è una domanda da un milione di euro praticamente perché cos'è la mente quantica la mente quantica in realtà spesso viene intesa come un qualcosa di unico un pezzo unico monoblocco in realtà quando noi parliamo di mente quantica ci stiamo riferendo a un sistema è un complesso che mette in connessione diverse realtà nello specifico noi dobbiamo prendere in considerazione il fatto che appunto già la nostra mente il nostro cervello diciamo abbiamo una parte che si occupa della razionalità un'altra parte che si occupa di funzioni emotive e anche se in realtà non è tutto confinato al cervello ma in generale la nostra mente è divisa in una parte logica e di una parte inconscia e già la parte inconscia ha un forte ruolo nella nostra vita tantissimo dipende proprio dai condizionamenti eh che noi riceviamo sin da piccoli eh dai zero ai tre quattro anni assorbiamo tutto come spugne per cui non so le addirittura anche dal grembo materno tutte quelle eh quelle anche quelle quelle sensazioni negative di nostra madre no tutto quello che accade nel positivo e negativo tendiamo un po' a prenderlo però poi veniamo condizionati dai genitori veniamo condizionati in seguito dopo i tre quattro anni anche dalla scuola cultura mass media il gruppo sociale e questa programmazione questa come posso dire eh questo questo condizionamento perché di fatto il condizionamento eh va avanti fino intorno ai 18 21 anni circa poi uno dice dopo i 18 21 anni è finito no perché si diciamo che tende a fermarsi però è possibile ancora ricevere dei condizionamenti va bene basta vedere che anche da adulti il televisore i media in generale come possono condizionare tranquillamente i nostri comportamenti eh però quello zoccolo duro che si crea proprio nei primi anni eh e comunque in generale in questa fascia d'età anche più ampia eh ci condiziona ci condiziona tanto nelle scelte e nei comportamenti eh una delle metafore che spesso si utilizza quella dell'iceberg cioè io se vedo un iceberg nel mare vedo la parte emergente e credo che quello sia tutto l'iceberg per cui dico ah guarda quanto è grosso l'iceberg poi in realtà sotto c'è una parte enorme più grande dieci volte più grande e in realtà l'iceberg nel mare si muove non perché il vento soffia sulla parte emergente ma l'iceberg nel mare si muove perché le correnti marine spingono sulla parte sommersa e la mente umana è uguale la mente umana eh c'è una parte visibile che è la nostra parte razionale la nostra parte logica eh insomma quella che noi conosciamo quella che usiamo per la matematica per la valutazione per la parola la percezione spaziale e noi persone occidentali tendenzialmente diciamo vabbè ma io con la razionalità posso fare tutto e poi c'è una parte nascosta profonda che è il nostro inconscio eh invisibile che si occupa di emozioni si occupa di eh creatività di intuizione linguaggio non verbale io parlo gispo io gesticolo tanto no il tono che si alza si abbassa che sono tutte cose generalmente non controllate e noi pensiamo che questa parte siccome è invisibile conti poco in realtà eh proprio come l'iceberg questa parte sommersa decide la direzione eh del mare nel mare dell'esistenza l'esempio classico uno che dice mi metto a dieta decido di perdere dieci chili e poi magari dopo tre giorni dice ah quella parmigiana non ho potuto resistere poi riprova a fare un'altra volta la dieta e ricasca sulla la crepe con la nutella per dire eh e questo possiamo estendere anche nei rapporti sentimentali uno dice ah basta mai più con persone del genere e poi si li va a cercare con l'anternino e dice ma sempre io li trovo ah la sfiga del karma in realtà sì a volte c'è sta anche il karma però eh se io ho dei condizionamenti che mi sono arrivati dai miei genitori dalla scuola dalle mie esperienze eccetera eccetera la mia direzione razionale va in una cioè voglio fare la dieta ma se il mio inconscio per esempio quando ero piccolo mi hanno inculcato una convinzione tipo mia nonna mi ha sempre ripetuto chi è magro e malato chi è grasso e bello in salute poi io sono d'origine meridionale quindi abbastanza facile che una roba del genere mi sia stata anche detta e allora io avrò questa resistenza interna che va contro la mia volontà razionale perché è come se dicesse guarda che se dimagrisci ti ammali eh perché gli è stato insegnato questo eh io poi faccio il corso da tanti anni eh lavoro tantissimo proprio con le convinzioni interne delle persone e devo dire che è pazzesco come davvero la gente eh vive una vita limitata eh anche esternamente perché uno dice vabbè ma le convinzioni Vincenzo sono dei pensieri astratti no una convinzione profonda che nasce dalle dalla ripetizione costante di una cosa eh di una persona che mi ripete la stessa cosa questo anche da adulti eh eh oppure mi succede una cosa che mi fa spaventare quindi forte impatto emotivo allora si radica fortemente dentro di me un'idea limitante subito o anche potenziante e e quindi quando noi parliamo di mente quantica una parte della mente quantica da prendere in considerazione è questo programma inconscio ehm cosa che mi ha sempre affascinato sin da ragazzino perché io avevo sono partito subito con una grande passione per esoterismo in generale per cui mi ero subito appassionato a tutti i processi legati al manifesting tutte queste tecniche tutte queste cose interessanti per influire sulla realtà però a un certo punto io ho capito che c'è un un blocco e che sono il programma inconscio cioè se tu non lavori sul programma inconscio praticamente sei limitato perché tu hai voglia a visualizzarti eh non so uno che cerca l'anima gemella io mi immagino di essere un altro me stesso mano nella mano con la persona giusta sulla spiaggia ma se sei convinto non esiste eh la persona giusta per me oppure in giro ci sono non so tutti gli uomini sono uguali o tutte le donne sono uguali quindi hai convinzioni limitanti proprio sull'altro sesso o sul partner della partner che stai cercando mi sembra ovvio che te voglia fare visualizzazioni a farti mantra e tutto quanto questo queste queste resistenze interne faranno di tutto per non farti andare avanti in quella direzione però attenzione poi adesso tornerò un attimo sulle convinzioni voglio aggiungere un fatto perché sennò uno quando parla di mente quantica dice vabbè vince mi stiamo a parlare semplicemente di inconscio vabbè no in realtà l'inconscio noi possiamo chiamarlo mente inferiore in realtà se noi parliamo di mente quantica dobbiamo prendere in considerazione la mente inferiore ma anche la mente superiore che è quella parte di noi più sottile più energetica se una delle prime cose che mi ha insegnato un mio maestro ricordo la prima volta che ho parlato con lui lui mi disse occhio perché la tua realtà dipende sia dal programma mentale ma dipende anche dal karma per esempio tutto ciò che mani torna indietro per cui tu ti puoi anche ripulire tutto il tuo bel programmino inconscio però se poi ti comporti non da personaggino simpatico in giro siccome tutto ciò che mani torna rientra nel a livello di quali come qualità energetica ti torna indietro alla fine tu dici non capisco perché poi il karma non è soltanto questo il karma è molto più complesso adesso in 45 minuti cercherò di toccare un po di punti il karma sono anche cose che ci portiamo ci portiamo da dietro dal passato e quindi è importante anche lavorare su quei nodi karmici quindi quando io sento quello che dice no ma dovete lavorare solo sul programma inconscio sul programma mentale infatti nei miei libri qualcuno qualche volta non non piace che oltre a parlare di convinzioni come disinstallarle le tecniche come riprogrammare la propria mente poi a un certo punto comincio a parlare di ego comincio a parlare di essenza e la gente mi dice questo questo come perché parla di questa roba questa roba un po' una dore di spiritualità in realtà questa gente ignora un fatto molto importante ignora che queste sono conoscenze millenarie ignora il fatto che un sapere antico è andato perso si è disperso nel corso degli anni dei millenni si è disperso è arrivato a noi in maniera frammentata e addirittura insomma anche c'è chi anche ci sono diverse interpretazioni non c'è neanche una roba univoca e dovete pensare che sicuramente la l'umanità come come esseri umani è limitante pensare che la nostra storia sia soltanto questa eh ci sono tanti ritrovamenti archeologici che ci dimostrano che probabilmente i famosi oppart eh probabilmente se si va un po' indietro eh cosa sono gli opparti gli opparti sono ehm diciamo oggetti con una tecnologia che per l'adattazione al carbonio era impossibile che esistessero a quell'epoca e e ce ne sono diversi alcuni li hanno smontati ma altri non riescono a smontarli e quindi vuol dire che comunque il la storia dell'umanità è una storia che è stata in qualche maniera eh qualche maniera come dire riscritta eh non in cattiva fede ma semplicemente perché a un certo punto si sono perse le tracce e vorrei aggiungere una cosa eh io mi occupo di questi temi da un po' di tempo per cui ne ho sentite di cotte di crude gente che dice che sono tutte stupidaggini ma vabbè chi se ne frega eh ma vorrei far presente una cosa molto importante che eh queste queste cose sono state studiate sono state approfondite addirittura eh stiamo parlando un po' di anni fa dalla CIA sotto due programmi prima si chiamava Scanit e poi Stargate eh eh le famose abilità psichiche no l'addestramento di agenti psichici visione a distanza telepatia tutte queste cosette un po' strane e anche se questi programmi poi questo programma Stargate che era l'ultimo è stato chiuso di fatto eh è stato chiuso metà anni 90 però è durato ben 25 anni e gli omologhi russi dall'altra parte hanno fatto la stessa identica cosa quindi studio della telepatia studio dell'influenza anche a distanza eccetera eccetera quindi è è interessante io non penso che l'abbiano chiuso sinceramente a un certo punto dicono di chiudere delle cose e poi le riaprano in altre parti eh tutte queste cose che da un lato ufficialmente vengono un po' smontate io vi posso assicurare che c'è gente che eh in maniera istituzionale ti dice che sono stupidaggini e poi si incontrano bardati in un certo modo in circoli in circoli esoterici e fanno rituali punto basta dobbiamo dire altro cioè sono cose abbastanza risapute non sono e questo è anche il segreto di puncinella per cui eh è importante eh rendersi conto che un certo tipo di sapere in qualche modo si vuole si vuole fare in modo che venga divulgato eh soltanto a pochi che la massa non venga assolutamente a contatto con un certo tipo di sapere tant'è che anche all'interno di particolari percorsi esoterici e non faccio nomi ovviamente spesso quel sapere viene anche distorto in maniera tale che non sia pratico infatti in giro c'è un sacco di gente che ha una fortissima preparazione esoterica da un punto di vista teorico ma come comincia a dire ok rendiamo la pratica questa gente eh si incazza pure cioè non vuole assolutamente perché dice che non è così quindi eh ci ci sono diversi modi per evitare che la gente sappia eh io sono sempre stato animato proprio dall'idea di voler cambiare la mia vita e quindi se volevo cambiare la mia vita eh ho cominciato a interessarmi a studiare tutta una serie di cose poi eh nella mia vita sono anche tratto in contatto con una disciplina rivoluzionaria per me che è stata la programmazione neurolinguistica perché mi ha fornito veramente poi degli strumenti molto molto potenti per andare a lavorare su quel benedetto programma inconscio voi pensate solo una cosa che una convinzione eh che non è altro che un'idea è un'idea che si radica nella nostra mente eh mette in atto dei processi eh dei fenomeni interessanti che fanno in modo che tu non esca mai poi da quel tipo di realtà cioè cancella e deforma la realtà i processi di cancellazione e deformazione sono dei processi del tutto naturali non è nulla di trascendentale la cancellazione per esempio è quando tu parli con una persona c'è bailame c'è gente che parla c'è musica allora tu hai bisogno di ascoltare quella persona inconsciamente riesci per qualche istante a cancellare tutti quei rumori che ci sono attorno tutti tutte quelle voci e riesci a sentire solo quella persona quindi la cancellazione in realtà la usiamo eh soltanto che allo stesso modo io posso cancellare tutto quello che è contrario alla mia idea se io sono convinto per esempio che eh tutte le donne sono traditrici o tutti gli uomini sono traditori facciamo tutte le donne sono traditrici a un certo punto facciamo un esempio mio anche se non ci penso assolutamente a sta cosa grazie per fortuna eh nei momenti in cui io conosco eh delle donne vado a cancellare assolutamente dalla mia attenzione tutti quei gesti e tutte quelle persone contrarie a quest'idea vado a vedere solo quelle persone che tradiscono e basta non ci sono come posso dire solo i delinquenti diventano ricchi io noterò tutte le volte quelli che ah vedi guarda quello e questa è la cancellazione l'esempio della cancellazione anche quando tu eh le chiavi dal solito opposto le sposti trenta centimetri più avanti e e siccome non ti aspetti di trovarle lì sei lì che giri mezz'ora e le chiavi non sono altro che spostate un po' più in là e questo è molto interessante perché si chiama allucinazione negativa cioè tu pur guardando in quella direzione dove le hai spostate non le vedi ecco come funziona la cancellazione però siccome le convinzioni sono veramente resistenti come ultimo meccanismo di difesa una convinzione ha il potere di deformare e alterare la realtà percepita perché partiamo da un posto la realtà è soggettiva viene percepita in maniera soggettiva e ogni persona ha la sua unica visione della realtà eh non esistono al mondo due persone che hanno una visione identica simile sì ma identica no perché le esperienze di vita sono assolutamente uniche e eh ognuno poi mette in pratica mette diciamo ai suoi filtri con i quali cancella e deforma la realtà la deformazione interessante perché è l'utilizzo della fantasia e la fantasia è eh eh come dire è lo strumento attraverso il quale è possibile immaginare creare le forme da le forme artistiche piuttosto che eh come posso dire eh anche immaginare eventi che non è ancora fatto che non persone che non non è ancora visto puoi immaginare esattamente come parlerai cosa ti cosa ti risponderà quindi ti prepara allo stesso tempo la deformazione ti può fare immaginare anche che quella cosa che tu farai andrà male ah ma tanto lo so che andrà male quindi io non non ci vado perché tanto so che va male quindi la deformazione spesso fa fare le cosiddette profezie autoaveranti allora quello che per esempio dice tutte le donne sono traditrici tendenzialmente non le vede mai quelle le ali no quelle magari affidabili quando anche un giorno gliene presentano una e e magari insomma dimostra di essere una persona affidabile può deformare la realtà e dire sì ma si vede che questa quando meno dell'aspetti ti tradisce e uno dice come fai a saperlo dice guarda l'ho capito dallo sguardo cioè fa una lettura della mente senza come dire avere una prova oggettiva ecco la programmazione linguistica per esempio è molto interessante perché perché allora se parliamo io mi occupo di una pnl un po più diciamo più moderna nel senso si chiama pnl umanistica integrata che prende in considerazione anche aspetti più sottili emotivi energetici poi c'è chi fa una pnl un po più vecchiotta più razionale più inquadrata insomma tanto che addirittura in alcuni abbiamo alcuni modelli dove addirittura integriamo anche tecniche sciamaniche facciamo delle cose un po strane che quello è il vero spirito della pnl è quello integrare tutto quello che funziona e fare in modo che integri più sistemi d'altronde rimanere ancorati a determinate cose non è che sia sia il massimo della vita e però mente quantica e qui di quantico fino adesso sembra che non ci sia nulla no attenzione per le teorie della meccanica quantistica e per le interpretazioni che poi sono diverse e pare che l'osservatore in qualche maniera quando si va a osservare con rilevatori il comportamento degli elettroni che sono appunto su particelle quelle che compongono gli atomi e particelle che compongono gli atomi quello che accade che è molto interessante in base al fatto che si osservi o meno quello che accade in alcuni esperimenti per esempio come quello della doppia fenditura gli elettroni cambiano come dire proprio forma nel senso proprio natura cambia proprio la loro natura o da semplici particelle quindi individuabili come i sassolini possono diventare addirittura delle onde eh proprio c'è un cambio di natura di di realtà cambia proprio il tipo di ehm da essere come dire un sassolino qualcosa che diventa un'onda grandi che per esempio per esempio le onde radio che sono enormi occupano vaste regioni di spazio e in base al fatto che tu accendo meno questo rilevatore è interessante perché c'è questo cambio molto più eh come dire qui c'è questo cambio forte di natura di realtà per cui da qui parte cosiddetto c'è proprio una frase l'osservatore influenza il sistema osservato e questo ovviamente è creato divisione tra i fisici ora questa cosa sto andando un po' velocemente perché non abbiamo tanto tempo ehm perché ci sarebbe da dire tanto anche l'esperimento della doppia fenditura lo potete trovare anche su youtube è molto interessante fatto prima con i fotoni nel 1800 poi rifatto più recentemente con gli elettroni perché se gli elettroni cambiano la la loro natura in base al fatto che ci osserva meno noi siamo costituiti di elettroni cioè la materia è costituita da elettroni ok questo è per questo che si dice come alcuni per esempio come fitrof capra che ha scritto il tau della fisica fitrof capra è un fisico eh e lui addirittura trova collegamenti tra le teorie della meccanica quantistica e eh addirittura le teorie mistiche le teorie orientali e e cosa più interessante eh fitrof capra fa un passaggio ulteriore lui dice da fisico eh beh ma in realtà l'uomo non è partecipatore eh scusa non è osservatore l'uomo è partecipatore cioè senza la partecipazione dell'uomo non ci sarebbe realtà questo collegamento forte tra coscienza e realtà ovviamente queste sono interpretazioni per cui i fisici sono comunque spaccati c'è una parte che dice che non è assolutamente così e una un'altra parte più minoritaria invece porta avanti eh invece questa idea molto interessante che se fosse vera sarebbe rivoluzionaria cioè la nostra eh la nostra coscienza e loro la chiamano coscienza io vorrei chiamare in un altro modo però il nostro questo nostro modo di vedere il mondo la nostra visione del mondo lo influenza ma di quale se fosse vera di quale visione del mondo stiamo parlando della visione razionale perché io so già adesso molti dicono eh vabbè ma vincere io mi immagino i soldi non arrivano e come dire mi dico sempre che sono bello bravo e figo e che tutti mi vogliono ma questo non succede perché questo è un piano razionale logico se noi parliamo di probabilmente di osservazione della realtà parliamo di un'osservazione inconscia un'osservazione profonda e una cosa che io ho eh testato in tutti questi anni di di lavoro con la con la gente è che quando tu vai a cambiare tutto quel set di convinzioni limitanti e che è quello secondo me lavoro più importante da fare su se stessi quando cambi le convinzioni limitanti cambia anche fuori la realtà non cambia immediatamente cambia dopo qualche mese comincia a vedere dei dei cambiamenti e questo avviene per due motivi principali il primo quello più terra terra razionale e che non cancelli e deformi più la realtà perché non hai più quei paraocchi eh tipo soli delinquenti diventano ricchi l'amore non esiste ehm quando i soldi arrivano ci teradoppiano forse potrei fare un elenco nel 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 libro la la mente quantica eh nel mente quantica quattro D eh ho fatto pure un elenco di queste convinzioni così uno se ne va a cercare ma ne ho fatto uno ancora più corposo nel sequel di questo libro che è il potere della programmazione quantica ho fatto proprio un un elenco enorme di questi di questi pensieri limitanti presi proprio da eh da tutti gli incontri che ho fatto nel corso di tutti questi anni e ed è interessante io ricordo tanto tempo fa per per farvi capire come una convinzione influenza eh una persona eh eh che aveva problemi di peso aveva provato a perdere peso in mille modi aveva provato di tutto di più e aveva proprio dentro cioè quindi aveva provato a fare diete era andata da dietologi aveva provato a fare un po' di palestra perdeva uno due chili e poi li rimetteva tranquillamente su cosa molto interessante eh parliamo un po' eh durante l'incontro viene fuori quella famosa convinzione di cui vi parlavo prima eh che la nonna gli aveva installato se sei magro sei malato se sei bello grasso sei in salute non appena gli ho disinstallato questa convinzione è stato pazzesco perché ha perso nel giro di due tre mesi se non ricordo quanto 15 chili ovviamente facendo la dieta perché ora se uno dice ah io conosco gente che dice mi tolgo la convinzione e poi mi strafoco e mangio e dimagrisco lo stesso mi spiace ma non è così non è così e a quel punto non aveva più questo freno a mano e ha potuto seguire finalmente un un percorso perché aveva l'inconscio finalmente dalla sua parte ma questo è un esempio eh per esempio anche molto razionale molto logico che mi diverterra io ho visto anche cambiamenti esterni fuori eh per esempio gente che non non gli funzionavano a livello economico determinate cose quando tu lavori su quelle convinzioni su quelle resistenze poi le cose cominciano a cambiare nel corso del tempo poi ehm è ovvio che mi sono convinto eh di un fatto molto importante che il processo di manifesting io ricordo quando sono partito da 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 ragazzino ehm forse era anche troppo troppo piccolo nel senso che io mi ho già attorno ai tredici anni mi ero un po' appassionato di queste cose ma anche se in maniera molto molto no superficiale per quello che può fare un tredicenne e poi verso i sei cio a sette anni avevo già eh per esempio capito come funzionava il processo di manifesting e già applicando quello avevo visto che alcune cose arrivavano e altre non arrivavano processo di manifesting è un processo attraverso i quali tutti sintonizzi su un ramo di realtà desiderato anche perché adesso oggi mi vi smonto una cosa importante noi tutti siamo convinti di attirare una nuova realtà questa è una delle cose ma questa cosa qui diciamo che per i neofeti va bene cioè nel senso che tu ha uno che è a digiuno di tutto gli devi spiegare un po' le cose una cosa più semplice è la legge di attrazione legge di attrazione dice tutto ciò che emani torni indietro no e quindi se sei positivo attiri positività se sei negativo attiri negatività c'è un problema che questa legge viene mal interpretata perché e qui torniamo ma positivo come razionalmente o inconsciamente cioè mi posso pure raccontare di essere sì sono positivo ma dentro poi sono spaventato a morte e a questa questa cosa qui comunque eh mi andrà a è quella che viene messa è quella che in realtà mi tornerà però c'è una cosa in più da dire quindi già diciamo che quindi la legge di attrazione per come conosciuta funziona con la programmazione inconscia quindi tu hai un programma inconscio che quotidianamente crea la realtà anche contro la tua volontà razionale iniziamo da questo e chiariamolo subito seconda cosa in realtà per le teorie della meccanica quantistica non attiriamo nulla ma ci si sposta su dei rami di realtà voi dovete immaginare infatti io su questo la vedo molto come Vadim Ziland eh io quando pubblicai nel nel 1998 il potere dell'energia universale avevo già eh fatto questa considerazione perché queste sono teorie della meccanica quantistica nel senso che inconsciamente ci spostiamo su altri rami virtuali che poi diventano reali quando ci spostiamo e questi spostamenti in realtà occhio perché eh avvengono in maniera del tutto inconsapevole cioè chi non si occupa di queste cose dice vabbè ma io tanto non mi sposto no ti sposti e ti sposti in base a cosa ti sposti in base alle eh alle tue aspettative alla tua visione della realtà al tuo programma mentale e il tuo programma mentale che fa quegli spostamenti senza rendertene conto questo questo tipo di ehm di focus no io lo chiamo focus universale perché c'è la grande differenza tra focus ordinario volontà più azione mi voglio comprare una macchina costa diecimila euro cinquemila li do in anticipo cinquemila faccio il mutuo questa è semplicemente volontà più azione ok il focus universale quando invece tu oltre la volontà più azione ottieni qualcosa che sul tuo sulla tua linea di realtà sulla tua sul tuo ramo di realtà sarebbe impossibile da ottenere il famoso colpo di fondo schiena per non dire un'altra cosa oggi voglio non voglio dire parolacce faccio il bravo colpo di fondo schiena quel colpo di fondo schiena si ottiene perché c'è uno spostamento su altri rami di realtà però qui adesso viene una cosa interessante eh più i rami di realtà eh cioè più quello che voglio è eh è improbabile che accada più i rami di realtà sono distanti ma più sono distanti di più eh energia eh ho bisogno per piegare le dimensioni e accedere a quel ramo di realtà ora questo noi ripeto a volte lo facciamo in maniera tutto inconscia la maggior parte della popolazione umana eh ha diciamo fa questo senza rendersene conto però c'è una cosa da dire proprio perché i rami sono distanti la maggior parte di noi riesce a manifestare poco e niente perché perché per andare su cose più improbabili hai bisogno di più energia hai bisogno di più quantum energetico quindi il processo di manifesting che cos'è processo di manifesting è un processo un procedimento eh in realtà eh cosciente attraverso che io spiego nel nel libro la mente quantica 4d un processo cosciente attraverso il quale tu ti sposti coscientemente sul ramo di realtà desiderato e lì poi spiego tutto ma la la cosa interessante le cose interessanti sono due se tu hai delle convinzioni limitanti di quel quel processo cioè quella tecnica non serve a niente perché hai delle convinzioni che lottano contro punto numero due punto numero due se quella cosa che vuoi è molto distante quindi è molto improbabile hai bisogno di più energia e se hai bisogno di più energia allora devi cominciare a renderti conto e di questo ne parlo tanto nel nel libro il potere della programmazione quantica che è il sequel della mente quantica ne parlo tantissimo hai bisogno di più energia tu noi siamo letteralmente quotidianamente vampirizzati a livello energetico l'energia eh guardate ce la tolgono in mille modi possibili immaginabili partiamo da un presupposto l'energia entra e esce dal corpo attraverso i chakra i chakra dal sanscrito ruota sono i sette centri più altri due che sono mani e piedi eh quindi nove in totale ma prendiamo in potete immaginare queste 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 ruote che più tendono ad essere aperte e più questa energia entra ed esce noi non siamo delle batterie non siamo delle accumulatori di energia tendenzialmente entra ed esce più energia entra quindi più il chakra tende ad essere aperto più energia può entrare dentro di me più energia entra e più la mia vibrazione sale ok quindi più la mia capacità di manifestare aumenta ora piccolo dettaglio eh per far stringere i chakra a qualcuno ci vuol poco basta farlo pensare negativo io basta che ti spavento basta che ti do addosso tutti i giorni basta che ti riempio di negatività quotidiana basta anche avere quello che io chiamo lo sponsor negativo nella vita di tutti i giorni può essere la moglie il marito il figlio può essere il collega può essere che senza farlo apposta tutti i giorni ci parla di cose negative eh anche oggi va malissimo anche oppure ci dà addosso direttamente ci dice ah guarda eh tu sbagli sempre non fai niente tutte le volte ecco che noi abbiamo persone di questo tipo i nostri chakra tendono a stringersi e stringendosi abbiamo meno accesso all'energia che entra e che esce attraverso di noi allora che cosa accade accade questa cosa interessante che eh a un certo punto noi eh non riusciamo a manifestare quello che vogliamo infatti eh se noi vediamo la maggior parte di noi tende a essere più condizionata dall'esterno che a creare una vita propria chi sono quelli che riescono a creare una vita propria sono quelle persone che eh riescono a sviluppare un buon riferimento interno cioè che imparano a ascoltare più se stessi e meno un riferimento esterno riferimento le persone cosiddette riferimento esterno sono quelle persone che allora uno va gli dice guarda che questo è bianco ah ok è bianco poi un altro va gli dice guarda che questo è nero ah no è nero e quindi cambiano idee in base a a cosa gli raccontano dall'esterno non riesce a farsi un'idea propria questo è un esempio di riferimento esterno esagerato ma in generale la maggior parte di noi che più che meno in base alle gradazioni ha questo riferimento esterno noi ci facciamo condizionare tantissimo dagli altri dalla televisione da quello che dice la tv oggi come il il numero quant'è il numero fammi sapere il numero e questo dobbiamo imparare ragazzi ragazze dobbiamo recuperare la nostra centratura se noi non recuperiamo la nostra centratura hai voglia a te a comprarti i mantra magici le frequenze psiconane e voglia a te a fare mi immagino di essere un altro me stesso se non recuperi centratura e non sei centrato su te stesso e non rialzi il tuo livello energetico e non fai un po di pulizia a livello di programma inconscio se è molto difficile fare questo tipo di lavoro alcune cose ci riesci ma infatti in tanti si avvicinano a questi temi provano le prime cose e funzionano più o meno poi quando vanno a toccare quelle robe dove ci sono delle convinzioni limitanti o dove hai bisogno di più spinta energetica non funzioni come su tutte stupidaggini boh perso tempo no perché perché uno in giro le informazioni che vi danno sono superficiali su questi argomenti nel senso che vi danno è come se vi dessero un'auto che non ha cinque marce più la retromarcia mi danno solo due marce poi è ovvio che arrivi a un certo punto e la macchina non va se mi limito a dire tu pensa positivo immagini nessun altro testa se mi limito a dire questo e non ti parlo di karma e non ti parlo di convinzioni e non ti parlo di quantum energetico e non ti parlo anche di pratiche per per esempio anche imparare a fare un po di meditazione anche cinque minuti al giorno una piccola meditazione è importante è importante guardate noi stiamo vivendo un momento questo da da un anno un momento in cui ci stanno massacrando sotto tutti i punti di vista se noi non recuperiamo la nostra centratura non cominciamo a dare direzione e non possiamo poi lamentare dobbiamo imparare io quello che ho imparato nel corso degli anni che attorno che accadono cose negative questo è innegabile però io ho imparato anche a anche soprattutto quando accadono accadono nella mia vita anche perché adesso vi racconto una cosa se vi viene uno che dice io sono arrivato io sono illuminato a me non accade più nulla gli dovete fare una pernacchia fatela da parte mia perché non fa bene non fa diteli che non semplice che non gli fate la pernacchia è una cosa brutta la vita è sempre fatta di alte e bassi quando conosci certe cose i bassi durano meno ma i bassi prima o poi capitano sempre perché siamo tutti in viaggio siamo tutti ancora a scuola io altri tutti siamo a scuola chi conosce queste strategie riesce a ottenere più cose però attenzione gli alte e bassi ci sono sempre quindi impariamo una cosa importante quando ho momenti di basso è quello il momento in cui devi tirare fuori gli attributi è il momento in cui devi cambiare stato interiore devi imparare guardate che lo stato interiore ci sintonizza sul ramo di realtà i pensieri ricorrenti ci sintonizza sul ramo di realtà occhio occhio le persone che frequentiamo se abbiamo persone che costantemente sono lì che ci massacrano e ci ci dicono cose negative e non posso poi lamentarmi io non capisco perché la mia vita non cambia pure l'ho fatto il mantra magico e non capisco cioè è normale dobbiamo partire da noi cioè io la prima cosa che mi ha mi disse uno mio maestro tempo fa mi viene da ridere io avevo problemi con la mia ex perché non ci andavo litigavamo e io ho dissi maestro maestro dammi la tecnica magica per farla cambiare e lui quello mi disse cambia tu per primo se vuoi che quello che ci sia fuori i cambi quello che c'è fuori i cambi io all'inizio ho detto eh vabbè la solita paraculata orientale mi ha detto ah sì questa la trovo pure dentro i biscotti cinesi della fortuna poi ho scoperto che aveva ragione in pieno se noi non cambiamo dentro dovete smetterla di trovare bacchette magiche miracolose fuori no c'è quello che dà la bacchetta magica ti sta vendendo una roba perché il lavoro dovete farlo voi dentro di voi io ti posso mostrare per esempio la direzione io ti posso dire guarda questa è la direzione che devi prendere però poi il resto devi fare tu molto semplice posso insegnare la tecnica ti posso aiutare però poi ricordate che chiunque vi aiuti in quel momento poi vi deve lasciare andare dopo un po' con le vostre gambe ma sia si creano dipendenze anche questa cosa no eh ok io non so vorrei parlare di tante cose ecco eh però mi sa che eh mi faccio prendere poi ok e vado avanti ok eh molto bene io non so mi sa che 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 sono quasi arrivato probabilmente che sono sì Dennis mi sa di sì sì nel senso che ancora cinque minuti se vuoi ce li abbiamo ci sono arrivate diverse domande le sto segnando per cui per dopo però ancora cinque minuti sì magari adesso chiudo chiudo un attimino un po' il discorso così può essere carino poi io mi sto infervorando quando vuoi sì sì infatti non volevo interromperti però visto che no hai fatto bene che già sto facendo la dieta mima digiuno questo questi giorni qua poi mi infervoro non va bene un po' di supporto dai così grazie dai dai adesso contico ancora due cose e poi mi mi avvisi tu eh adesso ho rimesso la chat così mi avvisi perfetto grazie allora eh un po' in chiusura di questo di questo incontro allora questo dovete vedere quando si parla di manifesting veramente dovete vederlo come un percorso di trasformazione interiore infatti guardate io parlo anche di argomenti come l'ego l'ego e l'essenza il vostro vero io cioè eh noi eh ci identifichiamo con un falso io e lo so che questa cosa mo dice mamma mia ma già ce mi ha detto la parte razionale l'inconscio poi mi mi ha detto la mente qua ma mi parli pure del falso io del vero io quanti 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 ce ne sono qua dentro in realtà il l'ego è frutto di una programmazione esterna quindi anche quella parte che c'è nel nostro programma inconscio è lì eh e l'ego è in realtà una struttura che copre ricopre completamente il nostro vero io quindi noi prima di abitare questa questa realtà noi siamo pura energia noi siamo essenza quando e veniamo poi su questo piano di realtà ovviamente per un particolare tipo di di percorso di che ci porterà a fare certe esperienze evolutive pensare che queste cose siano fregnacce io vorrei fare presente a tutti che noi percepiamo soltanto tre dimensioni solo tre dimensioni e il nostro hardware il nostro corpo è progettato solo per le tre dimensioni ma le dimensioni sono più di tre c'è la quarta che è il tempo c'è la quinta che contiene tutte le linee temporali virtuali possibili la sesta contiene tutti gli universi possibili con tutte le linee di realtà quindi guardate che il la realtà vera noi ne percepiamo una frazione e gli stessi astrofisici dicono che addirittura in altre zone dell'universo questo senza andare gli altri universi rispondono a leggi fisiche completamente sconosciute tenete conto che la maggior parte della materia che compone su universo è sconosciuta la materia oscura è sconosciuta non sanno anche che compone la maggior parte dell'universo allora dobbiamo capire che se vogliamo ragionare ancora tridimensionalmente allora accontentativi del penso positivo e e mi dico il mantricello quotidiano è quello poi se invece volete fare un salto e volete cominciare ad aprirvi a come funzionano le cose dovete comprendere che noi siamo molto più di quello che pensiamo dentro di noi c'è davvero quella cintilla divina c'è davvero quella cintilla divina non ci possiamo accedere perché è oscurata dal nostro ego dal nostro falso io chi pratica meditazione sa bene di che cavolo sto parlando lo sa perché quando mediti sospendi il pensiero se sospendi il pensiero sospendi l'ego e quando sospendi l'ego entri in contatto con qualcosa che non hai quasi mai sperimentato prima e vedi la realtà la percepisci in maniera diversa quando poi smetti fare meditazioni rientri nello stato ordinario di coscienza e a un certo punto non riesci neanche a spiegare quello che hai vissuto perché non ne hai l'hardware per poterlo spiegare quindi dobbiamo cominciare a capire che è molto importante questo aspetto cioè fatto di cominciare a prendere in considerazione anche per esempio che dobbiamo cominciare a lottare un poco non lottare ma un po ridurlo questo ego perché l'ego ci sconnette dall'essenza l'essenza è collegata con la religione universale il potere di manifestare è direttamente collegato a proprio la nostra essenza nostro vero io interiore quando attenzione io posso anche manifestare con stando pienamente nell'ego questo posso farlo non me lo vieta nessuno ma il mio potere di manifesting sarà ridimensionato e poi chi lavora con l'ego tendenzialmente poi lo usa anche in maniera distorta gli tornano indietro poi delle badilate mica da ridere ecco quindi è un è un è un percorso è un percorso evolutivo allora se uno lo intende come percorso evolutivo allora riesci ad accedere a un sapere una conoscenza che mica mio mi rendo conto non è per tutti non tutti siamo pronti io me lo ricordo anni fa a roma io ho stato un periodo facevo anche formazione aziendale e uno per sbaglio entrò in proprio in possesso del libro un era uno che faceva anche aveva una scuola di formazione entrò in possesso del mio libro potere legge universale che adesso non si trova più e questo mi disse guarda io ho letto il suo libro ma ci vuole tanta fede per credere a queste cose e che io rispetto poi ovviamente la sua visione ma per molta gente queste sono tutte cose che che poi magari riscoprono quando hanno qualche anno in più non tutti c'è gente che pure nella tomba ci va con una rigidità mentale però ripeto noi dobbiamo capire che veramente abbiamo una percezione limitata della vera realtà e poi addirittura il seti che quello che si occupa del della ricerca del diciamo di altre forme di vita nell'universo ha creato una scala cosiddetta o meglio preso preso spunto dalla scala di kardashev che la scala delle varie civiltà che ci potrebbero essere l'universo e tenete conto che più o meno sono tipo adesso c'è chi dice che sono cinque c'è chi dice che sono dieci livelli di civiltà vabbè sapete la razza umana dove sta noi siamo una civiltà di tipo zero noi nella scala di kardashev siamo di tipo zero e probabilmente fra un paio di secoli forse diventeremo di tipo uno quando riusciremo a utilizzare tutte le risorse del pianeta perché adesso stiamo 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 passacrando utilizzando solo quello che fa fare più soldi e chi vuole fare ancora più soldi questo è il concetto va bene mi fermo qui penso di aver banneggiato abbastanza stasera ok eccomi qua denis quando vuoi eccomi quasi diciamo grazie per tutto per i tanti concetti che c'è c'è riuscito dare in così breve tempo perché sono argomenti veramente complessi ampi per cui è avuto un ottimo dono della sintesi insomma sono arrivate che tantissime domande e quindi allora prima di iniziare però con le domande vi ricordo che alla fine quindi seguiteci fino alla fine perché ci saranno diverse sorprese per tutti voi in particolare un piccolo regalo che vincenzo ci vuole dare prima diciamo di per salutarci insomma allora comincio quindi con la prima domanda che è arrivata e quanto la storia sconosciuta della famiglia può condizionare condizionare il comportamento presente e quanto la storia sconosciuta della famiglia sconosciuta della famiglia la storia sconosciuta beh allora in realtà io posso anche non cioè dipende se io non conosco la storia in qualche modo bisogna capire che cosa si intende cioè nel senso non ho mai conosciuto i miei genitori però comunque ci saranno stati degli adulti significativi che mi hanno in qualche maniera dato un imprinting però c'è anche un'altra cosa in più noi e ereditiamo a livello genetico anche le memorie degli avi per cui anche se i miei genitori o non li ho mai conosciuti a livello genetico e questo interessante se ne occupa la psicogeneologia io ricevo comunque quel tipo di memoria proprio oggi pubblicato un video sul no ieri sul karma e si parlava proprio di questo molti mi hanno detto ma ma al karma e se io non ho fatto niente la sono stati gli avi e volte ereditiamo anche cose degli avi quindi diciamo che anche se io non conosco in qualche modo quello che in qualche maniera qualcosa è passato diciamo che ovviamente se non ho conosciuto i genitori gli adulti significativi comunque avranno collaborato tanto cioè chi si è occupato di me a diciamo incidere molto sul mio programma mentale perfetto spero che sia stata contenta insomma della risposta per cui ci chiede fabiana e se non riusciamo a capire che abbiamo delle programmazioni inconsce esiste un campanello d'allarme che potrebbe esempio potrebbe essere un campanello d'allarme che ci va tutto male da dove partire certo quello va tutto allora noi dobbiamo partire dal fatto che ci fermiamo un attimo carta e penna e uno comincia a scrivere che cosa io vorrei dalla vita cosa mi piacerebbe realizzare uno scrive che so voglio aprirmi centrolistico voglio aprirmi un podere mezzo la natura adesso faccio degli esempi così voglio diventare milionario perfetto e iscrivi poi guardi bene quello che hai scritto e ti dici ma io da una a dieci quanto ci credo veramente che posso farlo allora se uno dice posso diventare milionario da una dice con ci credo tre l'altro sette cosa crede se ci credite vuol dire che non ci credi quindi quello già un campanello d'allarme quando invece una persona è pienamente convinta di quello che può fare ma forza proprio pienamente c'è una convinzione proprio in profonda quindi non una promissione razionale a quel punto diciamo che non dovrebbe avere resistenze a meno che non possa dar fastidio a qualcosa a livello karmico per cui a volte ci si mette non sono le convinzioni e il karma che tu vai in quella direzione il karma ma anche la mission di vita cioè la direzione di vita che io ho deciso prima di incarnarmi su questo piano di realtà per fare una serie di esperienze e quindi attenzione nulla viene per caso il fluire dell'energia universale ti porta in una direzione noi poi con l'ego vogliamo andare in un'altra e uno dice però con manifesting faccio un po fatica le convinzioni non ce le ho le ho tolte può essere che stia andando in una direzione sbagliata quindi rispetto a quella voluta dal tuo vero io interiore perfetto sono arrivate diverse domande sulla meditazione quindi provo a riassumerle in unica domanda quindi uno la meditazione influisce sulla mente quantica e come e poi ci chiedono consigli e ripetimi la all'inizio che non ho sentito la meditazione influisce sulla mente quantica quindi come in quale maniera e qualche consiglio per iniziare un percorso di meditazione quindi allora sicuramente la meditazione influenza tanto perché ti aiuta a sospendere il pensiero ad avere maggiore concentrazione esistono delle meditazioni base molto semplici che si possono fare anche da soli ne spiego una sul mio canale youtube basta mettere meditazione base eh fanelli e vi spunta fuori una respirazione basata sul l'attenzione al respiro che entra e che esce dal corpo una delle meditazioni più semplici ovviamente il mio consiglio trovate magari bravo maestro che fa meditazione vi fate guidare anche perché non è semplicemente solo il respiro ma e e tanta altra roba c'è anche chi dice una cosa interessante che eh con la meditazione sospensione del pensiero riesce a trovare proprio quello spazio che lo spazio tra le particelle dove tu puoi creare la realtà ecco perché è importante tenete conto che nel processo di manifesting che spiego nel libro la mente quantica 4d eh e anche nell'audolibro ovviamente eh lì il il la capacità di estragnarsi e di focalizzarsi sulla realtà desiderata è molto importante per cui se uno non è abituato a a proprio a creare questo tipo di eh diciamo di 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 realtà alternativa nella propria mente e la meditazione può essere sicuramente di grande grande aiuto per imparare a controllare il flusso dei pensieri e poi vi metterà più in contatto la meditazione col vostro vero io perfetto e allora ci chiede giusanna le sensazioni verso persone ed eventi e quindi derivano da tante percezioni che catturiamo inconsapevolmente non so se ti è chiara la domanda allora ci sono persone molto più sensibili persone meno sensibili o meglio tutti quanti abbiamo un po' questa capacità però eh c'è chi la l'ascolta eh di più e la e si apre alle sensazioni e ci che un po' meno sicuramente noi riceviamo tanti input dall'esterno e e quindi persone più sensibili le riescono a a sentire ecco sull'arte di sentire poi questa è un'altra capacità che dovete sviluppare per capire proprio la la direzione eh del flusso dell'energia universale perché eh e qua vabbè andrei a recuperare un vecchio libro bellissimo che era eh la profezione di celestino il romanzo no la le sincronicità no seguire queste guide per cui l'universo in realtà ci porta in una direzione soltanto che la maggior parte di noi queste guide non le vede proprio cioè le sincronicità boh è un caso è così quindi eh bisogna recuperare l'arte di sentire eh e e le sensazioni e l'arte di osservare con occhi molto più come dire più più aperti quello che accade attorno a noi perfetto e faccio un attimo un passo indietro e prima hai parlato del che magari faccio rivedere il libro 4d la mente quanti che è l'audiolibro giusto per spiegare magari a chi ci segue che cos'è il libro 4d è un libro che non è solamente cartaccio ma ha tanti contenuti extra in questo caso appunto per cui 4d che in questo caso sono diciotto video eh allegati al al libro quindi all'interno del libro e poi c'è la possibilità di vedere quindi tramite insomma tutte le indicazioni insomma all'interno del libro anche diciotto video che completano diciamo il eh il contenuto del libro quindi sono video chiaramente di Vincenzo insomma quindi era giusto per fatto un passo indietro perché magari era qualcuno non era chiaro questo discorso del 4d tornando alle domande invece e ne sono diverse cerco di ho cercato di sintetizzarle e una potrebbe essere anche magari che va come dire a riassumere un po tutto anche un concludere un po questa parte delle domande potrebbe essere questa qua qualche piccolo consiglio per iniziare il percorso di cambiamento quindi adesso quindi cosa faccio da adesso quindi in avanti per poter partire allora non come anche se sono sono animalista però come dico sempre le mie figlie come lo mangio un elefante un elefante si mangia un boccone alla volta per cui eh senza avere tanta fretta di buttarsi di arrivare subito a determinate cose quello che eh quello che consiglio è di iniziare da qualche parte no iniziare da qualche parte è sicuramente quello che potrei consigliare eh proprio anche iniziando col libro la mente quantica 4d e e l'audiolibro anche eh sono utili per iniziare perché ti ti mettono nelle condizioni eh di lavorare sul programma inconscio eh ti mettono ti danno tante tecniche anche per poter rialzare il per esempio anche l'energia di cui abbiamo parlato poi ci sono delle tecniche che in maniera quasi artificiale ti fanno alzare l'energia per quello che ti serve per manifestare quindi anche iniziare con con il libro iniziare eh però a piccoli passi insomma senza pretendere di 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 voler fare subito dei degli enormi cambiamenti però almeno io da quello che vedo chi poi legge il libro e un po' mi segue eh se pratica pian piano tutto quello che io dico alla fine dei cambiamenti li vede eh è ovvio che bisogna veramente avere volontà eh perché se non c'è volontà si fa poi fatica cioè la bacchetta magica non esiste quindi ci vuole forza di volontà ci vuole perseveranza e e c'è una una metafora molto molto calzante cioè il io ho uno specchio davanti dove mi riflette la mia immagine triste così poi di colpo arriva Fanelli che dice sorridi che nello specchio vedrai che ci sarà un sorriso per cui mi metto a sorridere ma lo specchio rimane così perché è uno specchio rallentato per cui io all'inizio rimango così ma vedo questo cambiamento questo non non tanto veloce e la maggior parte della gente cosa fa si ferma subito dice vabbè lo specchio è è strano funziona cioè questa storia che se io rido cambia anche fuori quello che c'è no adesso questa è una metafora e non è che se voi ridete cambia la realtà oddio ridere fa bene io sono uno che per per lo humor e per le risate eh io sono per il fin da ridere perché vi fanno cambiare stato però vabbè ovvio che non bastano solo quelli però la metafora dello specchio interessante molto calzante perché tu devi continuare a perseverare in quel sorriso metaforicamente in quel cambio di mentalità perché in questo modo dopo un po' vedrai che anche su nello specchio nella realtà riflessa comincerei a vedere finalmente i cambiamenti perfetto direi che con queste ultime parole possiamo concludere la parte diciamo delle delle domande e sono arrivati tantissimi complimenti tantissimi ringraziamenti per per questo webinar volevo leggere questo qua di Flavia e complimenti che posso fare anche apparire qui sotto complimenti per essere comprensibile illuminante grazie quindi un riassunto tantissimi complimenti e vincenzo come i nostri diciamo ascoltatori possono contattarti se vogliono insomma quindi continuare a seguirti e a parte quindi diciamo acquistando i libri possono contattare per esempio dare sul mio sito web o contattarmi anche con l'indirizzo email info chiocciola vincenzo fanelli puntocom e oppure anche continuare a seguirmi sul mio canale tutto c'è e anche e o seguimi sul mio canale youtube basta mettere vincenzo fanelli e ci sono liquidi possono seguirmi ormai ho impestato youtube quindi sono video da tutte le parti ci sono il tuo canale confermo è veramente completo sono tantissimi video e anche diversi con tantissime visualizzazioni per cui quindi vuol dire che sono molto apprezzati da lettori dalle diciamo da le persone che frequentano youtube insomma per cui ci sono molte molti video visto con centinaia e diverse centinaia e migliaia di visualizzazione sono per cui se alcuni si si hanno avuto centinaia di migliaia di visualizzazione quello sì si vede che erano interessanti altri con meno visualizzazione erano meno interessanti bene a questo punto parlavamo appunto prima della della mente quantica che disponibile da poche settimane anche in versione 4d e magari raggiungo qua direttamente eccolo qua è una cosa personale quindi ti faccio una domanda personale ascolti audiolibri e se sì in quale contesto per esempio non so c'è chi adora io personalmente adoro ascoltarli magari in auto quindi per i viaggi magari in questo periodo se ne fanno un po meno però insomma in quella fase lì c'è chi li ascolta mentre passeggia al parco chi corre chi invece sta comodamente seduto a casa tu invece dove preferisce ascoltare un audiolibro per essenzial per assaporarlo al meglio l'audiolibro generalmente io li metto sullo smartphone per cui li carico lì e non appena ho la possibilità di poter avere quel qualche diciamo 10 15 20 minuti c'è la possibilità o con le cuffiette oppure senza cuffiette quando so se non ma magari viene da ridere perché adesso si viaggia sempre meno e nei viaggi lunghi mettevo spesso l'audiolibro e così mi ascoltavo capitoli interi durante durante il viaggio oppure anche durante momenti a casa di tranquillità con le cuffiette in giro perché comunque comodo cioè rispetto effettivamente al libro cartaceo è più semplice poi c'è chi adora il libro cartaceo e quello quello è bene perché c'è il gusto proprio anche della lettura io credo che addirittura io consiglierei tutte due perché sono alla fine stranamente sono due cose diverse stranamente quindi si sono complementari no sia l'audiolibro e libro cartaceo sì io penso che parlo quella mia esperienza personale il libro è comodo chiaramente per sottolineare le cose più importanti scrive eccetera eccetera quindi per come lettura come studio può essere molto importante però magari anche aiutarlo quindi con l'audiolibro ti permette magari di fissare certi concetti quindi che magari hai già letto nel libro o comunque ascoltandoli quindi magari che cose che ti perdi leggendole magari le trovi le ritrovi ascoltandolo poi il contrario quindi per questo può essere come tu dicevi possono essere sicuramente complementari poi in un libro magari un romanzo diverso uno l'ascolta più una storia però invece un libro in questo caso che comunque come i tuoi come libri diciamo che facciamo noi come amato di crescita personale di benessere sicuramente vanno anche studiati e quindi certo e quindi permette poterli mettere in pratica e quindi riuscire a sia sottolineare scrivere oppure ascoltarli diciamo permette una comprensione migliore credo insomma questo è il mio parere sì 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 assolutamente sì assolutamente sì sono d'accordo bene allora a questo punto direi ti ringrazio vincenzo per tutti i consigli che ci hai dato e grazie a tutti voi che ci avete seguito fino adesso e come anticipato abbiamo una sorpresa per tutti voi che avete ci avete seguito stasera e al termine delle webinar i partecipanti che si sono registrati riceveranno una mail con una doppia offerta speciale per poter uno ricevere in omaggio un ebook ebook questo caso qui le meraviglie della fisica quantistica e acquistando i libri di vincenzo quindi per ordine superiore a 19 euro quindi per acquistare i libri di vincenzo che ricordo sono il potere della programmazione quantica i poteri segreti della comunicazione empatica e la mente quantica sia in versione libro che audio libro c'è la possibilità di avere questo omaggio inoltre la seconda promozione è lo sconto del 25 per cento su tutti i video corsi di vincenzo che sono la mente quantica e il corso del potere della programmazione quantica sono dei video corsi online con diverse ore di video registrati dove vincenzo spiega appunto i concetti contenuti poi anche all'interno del libro e chiaramente espandendoli a questo punto tutti i dettagli di questa offerta li trovate nella mail che state per ricevere l'offerta sarà valida solamente per sette giorni quindi affrettatevi chi non si fosse registrato e vuole ricevere questa promozione può farlo anche adesso iscrivendosi a questo indirizzo che magari faccio passare qui sotto che www.gruppomacro.com slash webinar 26 quindi iscrivendosi riceve sia la registrazione del webinar di questa sera che l'offerta speciale questa doppia offerta ricordo quindi scade tra sette giorni per cui approfittatene subito ma come detto prima le sorprese non sono finite qui vincenzo ci vuole salutare regalandoci una meditazione e non so vincenzo vuoi dire le cose di questa meditazione non so a un nome come si chiama cosa serve sì allora dato che abbiamo parlato tanto di programmare l'inconscio di programmare insomma adesso facciamo una bella meditazione su come attivare la legge della sintonia quindi semplicemente vi dovete rilassare stare tranquilli proverò a mettere un po di musica e vediamo non si sentirà pochissimo immagino ed è una la legge della sintonia è un molto cioè come concettualmente un po diversa dalla legge di attrazione perché è quella che ti permette di sintonizzarti sui rami di realtà desiderati quindi adesso faremo questa meditazione insieme io vi guiderò mi raccomando chiudete la porta fate in modo che nessuno vi dia fastidio quindi dovete stare belli tranquilli sereni ok intanto io adesso cambio un attimo le metto gli altoparlanti esterni per sentire la musica perfetto vediamo se si sente magari si sente un po di sottofondo va benissimo bene allora prima cosa iniziamo mettendoci comodi facendo tutte quelle piccole sistemazioni necessarie per metterci il più comodamente possibile e poi facciamo insieme tre respirazioni profonde ispira dalle narici un attimo di apria ed ispira lentamente a labbra socchiuse ispira ispira ed ispira 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 ed ispira 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 eipper ispira 들어가 ispira ispira E mentre continui ad ascoltarmi, a percepire la temperatura della camera, le sensazioni del tuo corpo sui punti d'appoggio, tu continui a rilassarti via via, sempre più profondamente, mentre le tensioni cominciano a sciogliersi, come neve al sole. E più continui ad ascoltarmi e a percepire le sensazioni all'interno del tuo corpo, più tu continui a rilassarti via via, sempre più profondamente, entri in uno stato di profonda ricettività, via via, sempre di più, e le tensioni abbandonano il tuo corpo. Più tu continui ad ascoltarmi, più tu entri e sprofondi in uno stato di rilassamento, via via, sempre più profondo. I pensieri volano via per lasciare spazio a rilassamento, al benessere, e scivoli via via, sempre di più all'interno di te stesso, di te stessa, e accedi allo spazio interiore, pieno di risorse positive e potenzianti. accedi alle parti di te stesso, di te stessa, più positive e costruttive, in grado di farti raggiungere la realtà desiderata. Tu puoi avere qualsiasi cosa desideri e che sia positiva per te. Consciamente o inconsciamente, il tuo inconscio lavora per farti ottenere quello che desideri e che sia positiva per la tua esistenza. Tu realizzi i tuoi sogni. Tu ottieni quello che ti prefiggi. Perché le tue parti più profonde del sé lavorano per te al di sotto della tua consapevolezza. La tua mente profonda, collegata con l'energia universale, dà vita ai tuoi desideri più positivi. Tu attiri il successo. Tu manifesti i sogni più positivi. Realizzi quello che vuoi, ottieni quello che ti prefiggi. Consciamente o inconsciamente, dai vita ai tuoi desideri. Tu attiri la positività e manifesti i tuoi sogni positivi. Attiri successo nella tua esistenza e riesci in quello che vuoi. Hai successo in quello che fai perché tu meriti di avere successo nella vita professionale, nella vita sentimentale, nel benessere. Tu sei artefice del tuo successo, della tua realtà. Ottieni qualsiasi cosa tu hai in mente, che ovviamente sia positiva per te e per le persone a cui tieni. le tue parti più profonde lavorano per esaudire i tuoi sogni più positivi e il successo ti raggiunge spontaneamente. Ora io conterò da 1 a 5 e al numero 5 tu torni qui e porti con te una sensazione di benessere. Tu stanotte dormirai profondamente di un sogno e di un sonno rigenerante, ristoratore. Domani mattina ti sveglierai all'orario della sveglia o all'orario giusto con un'energia positiva, una sana positività dentro di te. E quando dirò 5, al numero 5 tu mi aprirei gli occhi, 1 2 e mi rivolgo al tuo inconscio affinché vada in questa direzione positiva di vita. 3 Consciamente o inconsciamente 4 5 Apri gli occhi e torna qui. Eccomi qua. Bene, ottimo questa meditazione ci stava proprio per concludere questa bellissima serata e spero che vi sia piaciuto a tutti. Ti ringrazio a te l'incenzo. Speriamo che sì, infatti scrivetemi qualche feedback anche per vedere se siete, se vi siete svegliati, se avete riaperto gli occhi. Ti ho fatto un silenzio in chat. Adesso stanno ricominciando a scrivere adesso, quindi non so se leggi un po' che ho i commenti. Wow, grazie. Infatti do un consiglio su questa meditazione, non pensateci più di tanto, lasciate che lavori per voi, dentro di voi, ecco, meno la razionalizzate, più funziona. Perfetto. A questo punto spero che vi sia piaciuta questa serata, se così fosse vi invito a mettere un mi piace a questo video e a scrivervi al nostro canale YouTube o alla pagina Facebook o LinkedIn, indipendente da dove ci state guardando. Grazie di nuovo per aver partecipato. Prima di salutarvi vi anticipo che la prossima settimana saremo ancora qua con i nostri macro webinar e ci sarà il webinar Il pianeta è impolverato con Stefano Montanari e Antonietta Gatti. Per tutte le informazioni visitate il nostro sito internet www.gruppomacro.com A questo punto grazie di nuovo, Vincenzo, grazie per questa bellissima serata. Grazie a voi, grazie a te, un abbraccio a tutti. Ci vediamo presto, magari esatto, magari un altro organizziamo, un altro webinar da quest'estate sicuramente. Sì, tanto io sono qua. Va bene, dai, un abbraccio a tutti. Ciao. Buona serata. 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 Grazie a tutti